Buonasera a tutti streghe e stregoni bentornati. Oggi iniziamo in quest'anno scolastico le lezioni di erbologia e pozioni. Allora in questa prima lezione voglio dare uno sguardo alla questione dei nomi. Sappiamo che ogni pianta ha il suo nome anche se in realtà molte specie ancora sono sconosciute all'uomo. Fin dall'antichità le streghe e gli stregoni hanno tentato di classificare le specie viventi. Per esempio Linneo, che era un medico e botanico svedese del XVIII secolo, definì la nozione di specie e di genere, composto quest'ultimo da numerose specie che possiedono caratteristiche comuni, e raggruppò i generi vicini in famiglie. Le famiglie sono state in seguito raggruppate in ordini e gli ordini in classi, le classi in sottodivisioni e le sottodivisioni in divisioni. L'insieme forma il regno vegetale. Per la nomenclatura Linneo adottò un metodo binario, cioè ogni pianta veniva denominata con il nome del genere seguito dal nome della specie. Allora adesso andiamo a vedere la nomenclatura. A seguito di numerosi convegni di botanici è stata definita una nomenclatura delle piante universalmente adottata, che poco a poco rimpiazza le denominazioni locali, che sono troppo imprecise, e che viene quindi usata per gli scambi internazionali. La lingua adottata è il latino, come sappiamo, che non corre il rischio di degenerare, non essendo appunto una lingua parlata. Ogni pianta attualmente ha un proprio nome scientifico, forse è un po' freddo, ma ben più preciso dei nomi dialettali in uso in diverse regioni. Per esempio, pensate a Arctostaphylos uvaursi, oppure Taraxacum officinale web. Sono denominazioni che lasciano un po' perplessi di tutti coloro che chiamano queste piante rispettivamente uva ursina e dente di leone. Ma questi nomi non vanno oltre i confini, mentre Taraxacum è comprensibile in tutto il mondo. Il nome latino di ogni pianta è seguito dal nome abbreviato del botanico, che l'ha descritta e battezzata. Allora, oltre al nome scientifico, ci sono i nomi comuni o dialettali. Forse sono più espressivi rispetto al nome latino. Comunque, una pianta può avere più nomi dialettali nella stessa regione e nomi diversi da regione a regione. Spesso il medesimo nome dialettale indica piante diverse. Le somiglianze più superficiali, la devozione popolare, un errore o anche la fantasia, l'entusiasmo di un malato guarito, hanno dato poi origine a nomi dialettali. L'alkekenjo, per esempio, per la forma dei suoi frutti è detta palloncini. La digitale purpurea, a causa della corolla, che è la forma di un dito di guanto, è detta guanto della madonna. Il lotus corniculatus, grazie al piccolo bottone fiorale, graziosamente ricurvo in punta, è denominato scarpina della madonna. La salvia sclarea, per le numerose proprietà terapeutiche, viene detta tutta buona e anche il chenopodium bonus enricus, è in volgare erba sana. I nomi volgari della chilea milefolium derivano dalle proprietà emostatiche della pianta. In Liguria si chiama stagna sangue, in Sardegna erba deferidas. In Francia viene chiamata erba dei carpintieri, essendo questi fra i più esposti al pericolo d'Italia e quindi di emorragie. Secondo alcuni studiosi, il nome di geranium roberzianum deriva dal latino ruber, cioè dal colore rossiccio dei fusti e di una parte delle foglie e da quello dei fiori, più o meno rossi. E mentre in Francia è stato coniato il nome di geranium roberto, in onore di san roberto, fondatore dell'ordine dei cistercensi dell'undicesimo secolo, la medesima pianta è chiamata in Lombardia erba de san roc. Nel medioevo questa erba era nota come erba rubra e in seguito erba rubersiana. Essa possiede veramente delle proprietà terapeutiche, benché il nome di san roberto le sia stato dato successivamente, grazie alla devozione popolare, dopo un miracolo che questo santo avrebbe fatto con questo fiore. È importante chiarire l'origine del genere grammaticale dei nomi delle piante, maschile o femminile, che però non ha rapporto con il sesso delle stesse. La maggior parte di esse possiedono stami e pistilli e sono perciò ermafrodite, ma per consuetudine e per antropomorfismo viene attribuito frequentemente il genere maschile a piante di grande taglie e robuste, e il genere femminile a quelle più piccole, gracili d'apparenza e aggraziate. Per esempio, la felce maschio, cioè driopteris felix mas, e la felce femmina, cioè atrium felix femminarot. In questo caso l'errore è macroscopico, in quanto le felci adulte non hanno sesso, le loro spore cadono nel terreno dando origine ai protalli, che saranno essi soli sessuoti. Tuttavia, la forma delle foglie della felce femmina è più decorativa, perché è finemente incisa ai margini, e ciò ha fatto attribuire alla pianta il genere femminile. Il metodo scientifico di definire una pianta sta nell'attribuirle il nome latino, che può avere le origini più diverse. Un personaggio della mitologia ha suggerito il nome della centaurea calcitrapa, che avrebbe, secondo la leggenda, guarito alle ferite del centauro Chirone. Il camedrio, Teocrium camedris, evoca un personaggio dell'antichità, Teucro, principe troiano, a cui si attribuisce la scoperta delle proprietà medicinali della pianta. Battezzando le piante del genere Barsha, l'inneo intese immortalare il nome del botanico olandese Barsha, morto nella Guyana a 28 anni, nel 1738. L'inneo scelse una pianta di colore tetro, che rispecchiasse la sua stristezza. Talvolta il nome attuale di una pianta deriva direttamente da quello con cui era denominata nell'antichità. Per esempio, cetirac officinarum deriva dal nome arabo cetirac. Il nome indica sovente una caratteristica morfologica. Per esempio, il finocchio selvatico, feniculum vulgare, deriva dal nome latino fenum, fieno, o funiculus, piccolo filamento, con chiaro riferimento alla forma filiforme delle sue foglie. Per esservi anche un'illusione a proprietà medicinali, per esempio la farfara, tussillago farfara deriva dal latino tussis, cioè tosse, e ago, che vuol dire scacciare. Infatti, un infuso di fiori di farfara è un ottimo rimedio per calmare la tosse. Allora, adesso vediamo la classificazione. Questa prima lezione serve tantissimo, come alcune altre che comunque dovrò per forza farvi, per avere un vostro bagaglio di informazioni per poi andare avanti, spediti. Andando a vedere quindi la classificazione, si può dire bene che chiunque può porsi certe domande, no? Per esempio, che pianta è questa? Questi due fiori appartengono alla medesima specie. Per esempio, cogliendo l'acoro falso, o iris d'acqua, che è una pianta comune, si nota che non tutti i fiori sono esattamente simili. I fossi di alcuni misurano 15 centimetri più degli altri. Alcuni hanno tre fiori sbocciati e due boccioli. Altri, invece, portano un solo fiore. Nonostante tutte queste differenze, alla fine notevoli, si tratta innegabilmente dello stesso iris. L'acoro falso. I fiori appartengono alla stessa specie, detta in latino iris pseudacorus. Iris è il nome del genere e pseudacorus è il nome della specie. Girovagando in zone umide oppure in colline aride, ovvicinandosi a luoghi abitati, si possono notare altre piante che hanno lo stesso aspetto generale, lo stesso portamento, le stesse foglie, la medesima incurvatura verso l'alto dei tre petali dei fiori, ma il colore dei fiori cambia. La specie florentina è di colore bianco. L'iris germanica è viola. L'iris spuria è viola e biancastra e l'iris pallida è blu chiaro. Considerando tutte insieme le 17 specie di iris, si nota che si somigliano ben più marcatamente tra loro che non con i gladioli o con il colchico, i loro cugini. Quindi si dovranno ovviamente riunire le 17 specie in un unico genere, iris, e si classificheranno secondo i loro caratteri comuni di somiglianza, trascurando il colore del fiore, che è un semplice elemento specifico riferito, mi sto riferendo alla specie. Gli specialisti tengono sempre più in evidenza le somiglianze, riferendosi non soltanto ai caratteri morfologici esterni, bensì anche a caratteristiche chimiche. Lo stesso ragionamento si fa per i generi affini. Così si rivelano termini di somiglianza, ma meno precisi, tra i generi crocus, iris e gladiolus, che consentiranno di raggruppare questi generi nella stessa famiglia delle iridacee. Qualcuno potrebbe pensare di inserire nella stessa famiglia i colchici. Colchicum, molto facilmente confondibile con i crochi, crocus, ma le apparenze possono ingannare. Infatti, per altri validissimi motivi, i colchici dovranno essere aggregati alla famiglia delle liliacee. Le iridacee e le liliacee hanno in comune un numero sufficientemente grande di elementi perché possono rientrare nell'ordine delle liliales. E così, risalendo gradino per gradino la scala della classificazione, dall'ordine alla classe, dalla classe alla sottodivisione, dalla sottodivisione alla divisione, si stabilirà la scheda sistematica del nostro accoro falso o iris d'acqua. Si potrà scrivere anche in questa maniera per chi volesse imparare a farlo. specie, pseudacorus, l, accoro falso o iris d'acqua, come abbiamo visto. Genere, iris. Famiglia, iridacee. Ordine, liliales. Classe, monocotiledoni. Sottodivisione angiosperme. Divisione, spermatofite. In antico si diceva fanerogame. Per la classificazione di una pianta o di un fiore sconosciuti, con l'aiuto di un manuale di botanica, si potrà procedere in ordine inverso. Quindi determinare poi innanzitutto la divisione, mediante le caratteristiche precipue, poi la classe, poi l'ordine, poi la famiglia. In ultimo, nel genere iris. Si dovrà scegliere tra le 17 specie esistenti per giungere alla coro falso o iris d'acqua. Ok, ragazzi. Allora, la prossima volta vedremo tutta la questione delle radici, del fusto, il fiore, le infiorescenze, eccetera, eccetera. Il tempo è scaduto per questa lezione. Spero che vi sia piaciuta. La prossima parte sarà appunto il prossimo mercoledì. Mi raccomando, rimanete sintonizzati qui sul canale della nostra Accademia. Lasciatemi qui i commenti di cosa ne pensate, di quanto ho parlato. E noi ci vediamo alla prossima lezione. Buona serata a tutti. Grazie. 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 Grazie.